Ce l'hai fatta? Bene. Situazione a bordo? Stabile, ma la tensione cresce. Non c'è da stupirsi. Ci vedi? Siamo noi. Lo Space Force One. Stiamo scendendo. Ci aspetta un... Oh, cazzo. Cosa? Che succede? Ma che cazzo? Soundbird! V, la Presidente! Devi... Soundbird! Maledizione! Cazzo, cazzo, cazzo! Porca puttana! Ok. Ok. Ci sono. Salvare la Presidente? Certo. Qual è il problema? Fantastico. No. Grazie a tutti. Oh, no. No! 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 It's the body! No! 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 No!